Alice, dopo 28 chilometri, va in fuga Uzzepot. Il belga non preoccupa nessuno e raggiunge subito un certo vantaggio. Vanno però alla sua caccia in tre. Sono Girard, Balaguet e Deschemacher. Poi parte anche Paolini. Paolini, con progressioni continue, raggiunge Deschemacher e Balaguet. E siamo al calvario di Uzzepot, il belga. Non regge il ritmo degli inseguitori e viene raggiunto impietosamente. Dopo Armani e Portalupi, oggi invece è la giornata di Paolini. Paolini, c'è sempre il nome della Schick all'attacco in questo giro della Svizzera. Supera Uzzepot, ma scatta ancora ripetizione. E anche per Deschemacher e Balaguet è la fine. Paolini tutto solo va verso il traguardo. Ecco lo splendido vincitore a Gastad. Devono trascorrere due minuti e diciassette secondi perché si presentino un altro italiano ben fatto, della Schick ancora, e la maglia gialla, Van Springel. A 2.27 giunge tutto il gruppo, regolato in volata dallo spagnolo Gonzales. In attesa di un grande acuto di vittoria d'Orni, oramai atteso a ore, Armani, Portalupi e Paolini hanno fatto tutto quanto era nella loro possibilità. Il belga Van Springel, intanto, continua a essere primo in classifica generale.